Chi ha parlato? Chi siete? Avete mai sentito parlare di colui che non è più e del mondo dell'altrore? No, mai. Quindi forse non sapete che esistono tanti altri mondi oltre al vostro, dei mondi perduti nel tempo e nello spazio. Ma perché rimanete a volto coperto? Perché è molto diverso dal vostro e potrebbe farvi paura. Nessun volto mi spaventa. E poi voi avete una voce che ispira la fiducia. Neanche un volto come questo vi incute timore. No, al contrario, mi fa sorridere. Mi ricordate un cesto di frutta. Non ridete di me. Non farei mai una cosa del genere. Ma mi avete dato un po' di allegria. Mi potreste slegare, per favore? Sì, ci posso provare. Vi chiedo perdono. Mi dispiace tanto. Non è nulla. Scusate. Ma, ditemi, esiste anche qui la pianta dei desideri? No, non ho mai sentito parlare di una pianta che si chiami così. No, speriamo di no. Senza quella pianta non riuscirò mai più a tornare indietro. Non riuscirò mai più a tornare nel mondo dell'altrove. Ed è lì che venite? No, io sono nato dalla magia di colui che non è più e senza nome, che viaggia da un mondo all'altro cercando di conquistarli tutti. E dove arriva? Porta guerra, distruzione, morte. Esisteva un solo mondo dove potevo nascondermi. Un mondo dove non conoscono né la guerra, né la violenza, né le armi. Un mondo di pace eterna. Un mondo di amore. Il mondo dell'altrove.